Qualche difficoltà con i livelli di energia? Ci sentiamo un po' giù? Bene, abbiamo un esercizio che possiamo fare che aiuta sicuramente a risollevare la nostra energia battere le mani, una cosa molto semplice come a ritmo iniziamo con 1, 1 poi aumentiamo, facciamo 1, 2 poi aumentiamo ancora 1, 3 poi facciamo 1, 2, 3, 4 ancora 1, 2, 3, 4, 5 ricominciamo da capo ma questa volta più veloci 1, 1 1, 1, 2 1, 1, 2, 3 1, 1, 2, 3, 4 1, 1, 2, 3, 4, 5 ancora più veloce 1, 1, 1 1, 1, 1, 1 e così via bene, a questo punto io sono già molto pieno di energia se questo può essere un consiglio utile e ne sono sicuro vedrete che vi darà molti buoni risultati diversamente possiamo anche fare una bella passeggiata possiamo fare un po' di attività fisica che fa sempre molto bene a voi la scelta io sono qui per voi grazie 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 grazie